Ma quanto è buona e facile! La torta cremosa ha le fragole, prepariamola insieme. In una ciotola unire la ricotta e lo zucchero e mescolare per bene con una frusta a mano. Aggiungere poi l'uovo e la fegola di patate, mescolare sempre con la frusta e poi sistemare con una spatola. Aggiungere le fragole tagliate a pezzettini e riporre il composto in una teglia cerniera apribile foderata con carta forno. Livellare per bene, aggiungere le fragole anche in superficie e cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 35 minuti. Ed eccola qui!